La gente risa e il suo team se ne vanno. Vi volevo ringraziare per l'aiuto. È stato un piacere. Sì, felici di aiutarvi, grazie. Ehi, a proposito di quella stampante in 3D che avete... Partita, non strapparti i capelli. Vuoi dire che mi avete stampato un gatto silvestro e Etty col berretto da notte? Ma quale berretto? Quello che hai in testa. Forse mette un'arechina per non speckinarsi. Ragazzi... Tranquilla, questa squadra comunque funziona. Beh, sì, siamo una grande famiglia felice, anche se vagamente disfunzionale. Sì. Notte, Callen. Notte, Kenzie. Notte, Neyney. Notte, John Boy. Stazzito, Dix.